Deliberati compiacenti della Commissione, insieme alla complicità dell'Inps, consentivano l'erogazione di assegni di accompagnamento e pensioni di invalidità a persone che non avrebbero avuto diritto. Erano i voti, la contropartita per le figure individuate, quali i registi della truffa, in primis il consigliere regionale Giovanni Baldi. E' questo il nucleo dell'inchiesta Spending Review che ieri ha portato all'esecuzione di una raffica di provvedimenti emessi dal GIP di Salerno su richiesta della DDA. Gli interrogatori di garanzia sono già stati fissati per martedì mattina. Il sostituto Vincenzo Montemurro ha parlato esplicitamente di spregiudicato mercimonio delle pubbliche funzioni a scopo elettorale. Anche una religiosa, una suora, nel calderone dell'inchiesta considerata il seguito naturale, e non ancora il capitolo finale, di Tsunami 1, con cui inquirenti ed investigatori avevano scoperchiato quello che è stato battezzato il cosiddetto sistema cava. La religiosa risultava invalida tra il 67 ed il 99%, ma in occasione della messa in suffragio della sorella si muoveva in piena ed assoluta autonomia. 9 le persone finite ai domiciliari, l'accusa è di truffa ai danni dell'Inps, in soldoni, pensioni, in cambio di voti. Non bustarelli dunque, ma consensi elettorali. Quelli che aveva tenuto a rimarcare il procuratore Zampoli hanno pesato notevolmente sulle ultime elezioni regionali ed in parte anche sulle amministrative a Cava dei Tirreni. Tanto che ieri in tarda serata il sindaco Marco Galdi ha azzerato la giunta. Non a caso il nome di maggiore spicco tra quello dei destinatari di provvedimenti è quello del consigliere regionale Giovanni Baldi. 100 i casi che saranno esaminati da un apposito pool medico-legale in via di Costituzione, 85 gli indagati. Elenchi che contengono nominativi di persone, quasi tutte di Cava dei Tirreni, di cui il 92% residenti in frazioni considerate roccaforti elettorali del consigliere regionale Baldi. Secondo il teorema accusatorio, sul territorio di Cava dei Tirreni sarebbe nata una vera e propria associazione per delinquere finalizzata alla commissione di abusi d'ufficio, falsi ideologici e truffe ai danni dello Stato. I beneficiari sarebbero stati tutti in rapporti più o meno diretti con Baldi. L'iter prevedeva che venisse distorto l'operato delle commissioni ASL di prima istanza di Cava dei Tirreni, con l'avallo di medici dell'Inps in sede di verifica di seconda istanza e con l'accomodamento del sistema di convocazione a visita dei richiedenti. Il tutto con un corollario tutt'altro che di secondaria importanza, certificati di favore rilasciati da medici di base. Un'indagine fondata su pedinamenti, riprese video, intercettazioni telefoniche e poi sull'escussione diretta di chi risultava afflitto da patologie invalidanti eppure svolgeva attività quotidiane con perfetta efficienza. L'importanza del fenomeno che non è legato solamente agli invaditi civili ma riguarda una serie di categorie di persone che truffano o mediante false dichiarazioni o peraltro mediante false attestazioni l'Inps. Ancora più grave è quando invece l'Inps viene truffata con il concorso da parte dei pubblici ufficiali, cioè di quelli che dovrebbero proprio evitare, controllare alla base questo tipo di richieste.